Buongiorno ragazzi, buongiorno dalla campagna dove sto facendo i miei 20 km quotidiani in bici Allora, vogliamo parlare di Interlazio di ieri sera? Sì, perché ho visto solo Interlazio Questi continuano a vincere, la mano di Conte si vede E' dalla prima partita che lo dico, vengo in una partita difficile, perché quella di ieri è stata una partita difficile Soprattutto nel primo tempo, dove la Lazio ha avuto grandi occasioni da gol E tanto per cambiare è stato decisivo, quella bestia di portiere che hanno, Andanovic Che ho sempre detto, quello è un portiere da 15-20 punti a campionato Allora, stavamo dicendo, Andanovic è un portiere che garantisce dai 10 ai 15 punti almeno a campionato Ciò significa che è un giocatore quasi decisivo come un grande attaccante Aggiungiamoci che, a parte qualche rischio che hanno corso nel primo tempo Qualche parola di Andanovic, la difesa subisce molto poco ed era prevedibile Perché a De Vrij e Skriniar, che già erano in gamba, già erano buoni difensori Si è aggiunto un campione come Godin Questi non potranno che far bene in difesa Ecco perché l'importante contro l'Inter è non prendere gol Parlo già in proiezione del big match che si giocherà fra due domeniche L'importante con l'Inter è non prendere gol Perché questi hanno una difesa veramente molto forte E' una fase difensiva veramente molto efficiente La mano del Leccese si vede, basta vedere i ripiegamenti di Brozovic Brozovic che non sbaglia una partita praticamente Barella che sta crescendo Sensi sempre bravo Lukaku si sbatte Io ho sempre detto che Lukaku non è un fenomeno Però ha il pregio che si sbatte, lotta Anche se in aria spesso è poco lucido Politano sta giocando bene Lautaro quando entra è sempre pericoloso Questa è una squadra con la quale bisognerà fare i conti quest'anno Tenuto un presente che il Napoli ha perso in casa 1-0 con il Cagliari Napoli nel quale Ancelotti sta facendo la fine che fece a suo tempo Benitez E quella è una piazza dove è difficilissimo vincere È difficilissimo Forse i primi anni Gli anni di Cavani Di Lavezzi Sono riusciti a vincere un paio di Coppa Italia Perché La piazza era ancora diciamo tollerante e paziente Perché si veniva dalla Serie C Si veniva da un certo tipo di campionati E i successi di Mazzari erano tutto grasso che colava Gli veniva perdonato tutto Adesso D'Ancelotti Come prima Benitez non perdonano niente Com'è? È chiaro? Mi sembra sia chiaro il concetto Anche perché dopo anni a vertice A Napoli vogliono vincere E qui Non è una bella cosa E il numero degli abbonamenti Ne tocca Lo sta a testimoniare Ma torniamo all'Inter Torniamo all'Inter Signori Inutile dire che sarà decisiva la partita Inter-Juventus Perché se questi Non si ha mai Vincono Lo sconto diretto A loro si apre un bivio O crollano Come Nell'anno di Stramaccioni Quando vennero a vincere a Torino 3 a 1 E sembravano lanciatissimi Ma il giorno La domenica dopo Persero a Bergamo E di lì comincia il tracollo O crollano Oppure questi Lottano fino alla fine Non penso che riuscivano a staccare più di tanto la Juventus Anche se dovessero vincere Perché Sarà lotta fino alla fine E sinceramente Guardando le rose Non so se reggono Anche perché a differenza della prima Juve di Conte Loro hanno anche la Champions E non penso che arrivino dietro lo Slavia Praga Nel girone di Champions Anche se dovessero essere eliminati Quindi gli toccherebbe fare l'Europa lì Hanno una rosa un po' più corta Però se la giocherebbero fino alla fine Se dovessero vincere Se dovessero perdere Paradossalmente Verebbero sgravati da responsabilità Secondo me farebbero O perdere o pareggiare Verebbero ulteriormente sgravati da responsabilità E Secondo me continuerebbero a fare un ottimo campionato E arriveranno secondi Perché per me arrivano davanti al Napoli Il Napoli è più forte dell'Inter Ma A Napoli c'è una situazione ambientale Non delle migliori Sì hanno battuto il Liverpool Perché la squadra ce l'hanno Il Napoli è forte Hanno battuto il Liverpool Ma è un ambiente troppo soggetto ad alti e bassi E di riflesso anche la squadra L'Inter È in fase di costruzione Per carità Ha una grossa squadra Nei titolari Nei prossimi anni Poi perché la Juventus Alla Juve ci sarà un ricambio generazionale Poi perché loro comunque continueranno pian piano a rimportarsi Saranno decisamente in lotta per lo scudetto Quest'anno staremo a vedere Quest'anno Meno del terzo posto non fanno Anzi secondo me Sul secondo posto se la giocano con il Napoli Io dico che sono al 50% E se dovesse In caso di De Black la Juve Adesso dico la mia Io vedo meglio l'Inter Nel caso la Juve dovesse crollare Io vedo meglio l'Inter per lo scudetto che il Napoli Sarà per tradizione Sarà perché Conte sa vincere gli scudetti Sarà Per quel che ho detto prima Per l'ambiente di Napoli Ma se la Juve dovesse crollare Secondo me c'è l'Inter Poi non lo so Io vi auguro un buongiorno Invitandovi ancora una volta a iscrivervi al canale Allora Poi sono in debito dei video sui campionati esteri Che farò E sull'NFL Che farò penso in giornata Ciao